Hey Wild Boys, welcome back! Un breve video per aggiornamenti domenicali su quello che sta succedendo. CRO, Crypto.com in crisi perde il 15% per un grave errore che ha commesso. Praticamente, cosa è successo? Sono stati inviati 400 milioni di dollari in Ethereum per sbaglio all'exchangegate.io. C'è la spiegazione del CEO di Crypto.com, Chris Marjalec. Praticamente, cosa dice? Lui, direttamente qui dalla traduzione, doveva essere un movimento verso un nuovo indirizzo in call storage, ma è stato inviato ad un indirizzo in whitelist di un exchange esterno per errore. Abbiamo lavorato di concerto con il team di Gate, i fondi successivamente sono stati restituiti. Abbiamo anche incluso nuove procedure per evitare che questo si verifichi. Gate nega che l'utilizzo di questi fondi siano stati utilizzati per migliorare l'audit. qui c'è anche il CEO di Gate.io.linhan, che dice che avevano lavorato con Armanino, Armanino ha specializzato in auditing e addirittura avevano inviato lo snapshot del proof of reserve due giorni prima che arrivasse questo deposito da Crypto.com. Appunto, ecco questo che è spiegato. Adesso, nel frattempo, resta comunque l'errore di Crypto.com. È ancora da capire se veramente sono stati inviati questi fondi per migliorare l'audit o no. Appunto, Gate nega, Binance, si si prende parola e dice che se un exchange muove importanti quantità di crypto prima o dopo la dimostrazione della proof of reserve, è un caro segnale di problemi, meglio starne lontani. Quindi, vedete che anche tra exchange si mandano frecciate, stilettate tra di loro. Nel frattempo, il token CRO in caduta libera sul mercato. Un po' pesano questi food di voler occultare i bilanci, un po' questi errori grossolani. Fatto sta che appunto ho già perso il 15%, ma non è l'unico CRO ad avere problemi. In questo momento, Crypto.com, perché anche Uobi, praticamente, dal tweet di VBlockchain, praticamente dopo che ha rilasciato la proof of reserve, sono subito dopo, quindi dopo che aveva dimostrato di avere i fondi, l'exchange, ecco che è partito un versamento di 10.000 Ethereum a portafogli di Binance e di OKEX, come se avesse chiesto in prestito a questi due exchange dei fondi, giusto per far vedere che, un poco prima dello snapshot, per avere questa cosiddetta proof of reserve, tutto questo ha portato a, andiamo a vedere nel mercato, nelle ultime 24 ore, vediamo che le aziende che stanno guadagnando di più sono Trust Wallet, che adesso appunto è un'app anche per la self custodian di crypto e ora la gente vuole utilizzare, non si fida più tanto degli exchange, vuole utilizzare queste app ritenute più affidabili ora, o anche gli exchange decentralizzati, per esempio DYDX permette di tradare su Future Perpetual, come lo faceva FTX, però in modo decentralizzato, guarda caso, negli ultimi 7 giorni, nonostante il crash del mercato, più 25%, più 29% solo nelle ultime 7 ore, anche Uniswap, protocollo decentralizzato, in crescita, ad esempio, mentre chi sta perdendo di più appunto, CRO, Kronos, Wobi, come detto, Solana, anche perché per tutti i problemi collegati con FTX e anche Qcoin, perché anche girano voci che hanno dei problemi con la Proof of Reserve. Nel frattempo c'è questo contagio, questi sono tutti i protocolli collegati, le app collegate ad Alameda e FTX, progetti sui quali hanno investito o detengono delle quote importanti, vedete come questo contagio può veramente espandersi a macchia d'olio, per cui in questo momento sicuramente è meglio stare nella larga dalla Cefai, ma anche attenzione alla DeFi in questo momento, perché non è detto che alcuni protocolli, anche in DeFi, abbiano per esempio prestato a loro volta dei fondi a magari FTX o delle società controllate da Alameda. E anche le coin legate agli exchange, in questo momento, se andiamo a vedere proprio in... quindi anche lo stesso il BNB di Binance, come detto CRO, sono quelli di FTX, ma anche degli altri exchange centralizzati come OKEX, attenzione perché potrebbero subire un ulteriore down proprio per questa sfiducia che c'è attualmente, o anche Bankrun, nel dubbio la gente preleva e non è detto che anche BNB potrebbe avere dei grossi scossoni. Nel frattempo la notizia anche delle ultime ore, però ancora da confermare che Sam Bankman è stato... chi diceva arrestato, chi è sotto supervisione all'aeroporto delle Bahamas perché stava cercando di prendere un volo, chi lo dice che l'ha già visto in Argentina lui smentisce, staremo a vedere, probabilmente sta cercando di andare in un posto dove non c'è l'estradizione verso gli Stati Uniti. Questo comunque era un po' l'aggiornamento di oggi, in particolare appunto questa notizia di Crypto.com e questi problemi continui che si stanno avendo in questi giorni. Come al solito cerco di tenervi aggiornati sulle news e se come al solito mi aiutate a condividere, mettere un like, commentare, far crescere il canale, vi ringrazio e vi aspetto al prossimo video.